Finiremo la Sti Cuneo? Dobbiamo farla, è un dovere nei confronti dei sindaci, nei confronti delle piccole e medie imprese e dei cittadini di questo territorio. È la sfida che abbiamo davanti, ci siamo dati delle date, entro il 31 dicembre di quest'anno vogliamo verificare una strada che porti alla soluzione e alla realizzazione. Ci misureremo solo con i fatti.